Ha sentito l'antenna? Qualcuno ha ressato. C'è gente all'antenna, eh? Qui. Pink verde. Stanno ressando. Vuol dire che adesso partono. Gli buco le gomme. Buttate a terra uno. Madonna. Voto. Arriba una moto. Sì. È qui da me. Ho colpito ma ancora è qui, eh? Gli ho buccato le gomme della macchina. A terra. Mi servono le 556. Sono lì dietro. Continua a colpirli, eh? Continua a colpirli, eh? Qua non so che faccia abbia. Allora, un 6 fermo. Non mi limiti le 762. No, le 56. Non c'è. Lui è il suo fucile, eh? Sessione, ragazzi, dove? Sempre là, sono? Sono sempre là, sono sempre là. Ok, che non abbiamo fatto fuori con le morte. La macchina gli ho buccato due gomme, eh? Sì, l'ho buccato due gomme, eh? Qua dove siamo? Noi siamo in zona, comunque. Se prendiamo la montagna, siamo tranquilli, ragazzi, eh? C'è Al... C'è... Chi è già? Sì, 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 sono io sotto. Sono io, Ale. Sono io sotto. Stanno uscendo. Stanno uscendo. Sono... Passano dietro, eh? Passano dietro, eh? È a terra, a terra. Ale, fase 5, eh? O c'è Mirko a terra. Chi ci vada, Mirko? Sono io. Mi sparano, però. Porca troia. Oh, gente che arriva col paracaduto, raga, eh? Raga, certo. Venite qua. Mi lancio una fumogena. No, no, la tirano di brutto. Mirko, non so andare più là, perché stanno tirando di brutto. Ragazzi, dobbiamo scendere dalla montagna, eh? Sì, scendere dalla montagna. Mi tirano. Ah, vangula. Dobbiamo curare. Non ho preso lì, eh? Ok, sono qua. Eh, così è adatto. Eh, così è adatto. Sono sempre più in giallo, più in verde? Sono dietro la casa. Uno, sicuro. Dentro? No, no, fuori. Di qua, dietro. Madonna, come mi ha preso. Adesso si deve muovere. Colpa alla testa. Sono a terra. Si stanno aprendo. C'era uno qua basso. C'era uno qua basso. Ciao, bel caro. Grazie mille. Situazione di guerra. Sto lasciando sparare pure io. Ma che cazzo? Grazie mille per il ride, Black. Ah, vaffanculo. Ale, ce n'è uno qui che ci ha freddato tutti e due. Oltre che il Black Arrow. E qui Ale, eh? Addio. Merda, sono incastrata. Morto. Vai, 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 vai. Mi sto curando. Sono nella merda, sono nella merda. Attento, ce n'è uno laggiù, ce n'è uno laggiù. Alla tua sinistra. Alla tua sinistra. Tu che hai messo la granata? Sì, sì, ho tirato io una fumogena. È sceso in mezzo al campo, eh? È sceso nel campo, eh? Nessuna raga, nessuna win, ma... Ma... Lo stimi, ti faccio sparare. Mamma mia! Ma che... Che cosa di merda, eh? Che cosa di merda, eh? Un altro che ti spara... Un altro che ti spara pure. Sì, 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 abbiamo fatto diversi poti, ragazzi. Eccolo qua, qui. Beh, è lì. Bravo, ragazzi. Ok, dov'è l'altro, secondo voi? Sì. Sì, mi trovo. C'era anche Duma. C'era anche Duma. C'era Duma, se credo. Allora, quattro nemici, ragazzi. Quasi sei, Ale. Non so se ti conviene fermata. Troppo sulla destra? Troppo sulla destra, Ale. Sì, sì, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Che riparo. Però secondo me c'è il tizio lì. Quattro nemici. Abbiamo un momento senza di lui, strano. Grande. Senza Duma, metti niente, ragazzi. Allora. Stato. Sono due davanti a me. Attento, attento. Arrivo, arrivo. C'è un altro, un altro a destra. Eccolo lì, sulla destra. Ah, sono a terra. All'albero, vabbè. Sono due. Eccolo lì. Al sasso, Al. Visto la mira fissa? Eh, ho capito, ma... Visto pure che correva. E non lo prendevi. Eh, lo so, però... Sta arrivando davanti a te, all'albero, te lo pingo. Sì, sì. Si è sdraiato. Adesso in piedi. E non ce ne ho cure, non ne ho cure. Non ne ho cure. Cerco di avanzare verso di lui, e lo vedi tu? Sì, sì. Sulla testa il pingo. Caricale. Ma questo è un botto. Caricale. Si è tirato di spalle, non vedo un cazzo, non vedo un botto. Ricarica. È un botto, sta venendo verso di te? Sì, sì, lo vedo, adesso lo vedo. Adesso lo vedo. Ricarica, 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 ricarica. Sì, sì, ricarica, ricarica. Ricarica, team. E non vedo più un cazzo, e sono a muro. Sono a muro. Anche il nonno mi sa, mi sto. E finalmente. Bella lì. I nostri amici. Abbiamo vinto sto cazzo di pollo. Cazzo di pollo. Ma non ho quanto ha costato sto pollo, ragazzi. Cazzo, lo dicevamo, ma lo facevo. Eh, che cazzo. Il fottuto pollo. Il fottuto pollo. Eh, la squadra non è male comunque, dai. Che giocatore. Andate, andate. Ah, grande Mr. Dejax. Ah, che ballento che c'è. Sì.